buongiorno amici di acimian inside e ben ritrovato un nuovo video sul nostro canale youtube allora prima di parlare della partita di stasera vi ricordo di lasciare like a questo video e seguire il nostro canale allora stasera alle ore 21 a san silo si gioca milan rende andata dei play off di europa league una partita importante per il proseguo della stagione rossonera a livello europeo e non solo anche perché dopo l'eliminazione della champions league andare avanti il più possibile europa porterebbe anche degli introiti a livello economico per quanto riguarda anche la la prossima stagione quindi per il mercato futuro il renne quando era stato sorteggiato a dicembre era una squadra in difficoltà era quart'ultima quint'ultima in classifica nel campionato francese e invece ora viene da 89 risultati utili consecutivi tra ligane e coppa di francia si ha venduto qualche calciatore importante come matic però al momento e resta una squadra ostica le due rossi sono completamente differenti quindi quella del milano è superiore sulla carta però ovviamente il campo poi tira la sua il mister dei francesi ieri in conferenza stampa ha dichiarato che la partita per loro e i soneri sono super favoriti e quindi loro vogliono essere l'outsider e quindi cercare di arrivare alla partita di ritorno almeno con un risultato utile positivo per giocarsela sul loro campo vedremo se sarà così alla fine sono sempre dichiarazioni della prepartita e quindi poi il campo alla fine dirà come sempre la verità la probabile formazione del milan è la stessa quindi giocheranno titolari con magnan florenzi che sostituirà l'infortunato calabria poi i difensori centrali saranno gabbia e kiel che ha recuperato dalle fortuna quindi dovrebbe partire titolare the ornandez sulla sinistra i tre di centrocampo saranno reinders adli e love su chic con ben nasser vedremo se partiva dall'inizio oppure dalla panchina e invece il tridente offensivo è il solito con pure sicilia oggi quindi ore 21 a san siro milan ren andata dei playoff di europa league per concludere vi ricordo di seguire oltre a questo canale youtube tutti i nostri canali social quindi da facebook a instagram a x o twitter come volete chiamarlo twitch tiktok sempre forza milano